Guarda, 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 Alice, 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 vabbè, è troppo riuscito, è troppo riuscito, è troppo riuscito Ciao bimbi, e ciao bimbe, io sono Barbara Dominici, io sono Alice Dominici, e benvenuti in un nuovo video Slime, provo i saponi dei piatti Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdermi nessun video, incominciamo Oggi proviamo il sapone, Winnie's, verde, perché abbiamo già provato il bianco, allora, sai perché voglio provare questo sapone? Perché? Perché tantissime youtuber che fanno slime, fanno vedere che questo sapone, quando viene avvenzato, sembra proprio slime, però in realtà io ho da farvi vedere delle cose Io intanto direi di provarlo come facciamo sempre, però prima di provarlo, io direi Devo salutare subito una persona E sbada bam! Alessia! Ciao Ale, un bacione! Vai, metti il sapone Winnie's Slime dentro il ciotolino, piccolo piccolo Perfetto! Close! Sia, prima di continuare andiamo a salutare subito un'altra Va bene, vai! E sbada bam! Lavinia! Ciao Lavinia! Quindi, 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 quindi poi andiamo a mettere qua dentro la... Polverina fatatica magica stellata! Fatatica! Polverina fatata magica stellata di unicorni, di stelle, di femmine! Ma perché di femmine? Perché c'è un femmine? Volgarmente chiamata... Sale! Non si dice... S... O! Brava! S, stellina, stellina, O! Il nostro cicciolo scarnolus! In versione... Polverina fatatica magica stellata di... E dentro c'è... S... Guarda quello che fa, mi che mi sembi lo perdi, il doblone... Cerca il doblone... È rituale ormai, eh! Ah, nel frattempo che Alice cerca il doblone... E... Non lo trova e poi... Me l'hai buttato via? No! Eccolo! Eccolo! Doblonis! Dei doblonis! È lì! È quella puntina lennina! Non lo metto a fuoco, lascelo stare, se no poi si offende e se no ha male... Doblone vai sotto! E sta male! Prego, mettici un pizzico di sale e si va a provare... Guarda! Che c'è? Ma like l'hanno messo? No! Uno, due, tre... Like! Andate a mettere like! Subito! L'hanno messo! E andiamo avanti! Allora dammi sale! Che totale! Wow! Guarda, guarda, guarda Alice, 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 Alice! No, vabbè! No, vabbè! Vabbè? È troppo riuscita? Andate a seguire la zia su TikTok e su Instagram che lo trovate qui! Qua! Vi trovate tutti qua! Perfetto! Io vado a metterci un altro pochino! Zia, zia! Dimmi! Prima di continuare andiamo nessuno di salutare un'altra? Sì! Va bene! Ok! Bye, 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 bye! Ciao! Ciao, Michela! Ciao, Michela! Un bacio grande da noi due! Allora, come ti ho detto, io ho fatto un esperimento. Intanto chiudiamo la nostra... Sì! Vai, levalo di torno mentre lo ha letto e non lo spaccare perché ce l'è rimasto oltre quel pezzettino di cicciocorno e poi è finita. Ciao, cicciocorno a due anni. Allora, ora vedi, perfetto. Ok, ci siamo. Allora, dovete sapere che io ogni tanto faccio gli esperimenti e magari non ve lo dico, però l'ho fatto. Allora, questo witness, che è questo sapone qua, come vi ho già detto, viene provato molto spesso come ingrediente su slime senza colla e senza acido borico, giusto? Sì! Allora, io cosa ho fatto? Mi sono fatta questo da sola in tempi non sospetti e sono andata a metterlo in frigorifero, ma ce l'ho tenuto dieci giorni. Ora, dopo dieci giorni vi voglio far vedere il risultato. Sei curiosa? Sì! E allora, vado a prenderlo? Prima però di andare a prenderlo, io voglio salutare un'altra di loro. Va bene. E sbada bam! Ciao Sofia! Macione! Non chiami Sofia, lei? Ciao Sofia! Ora vado a prendere quello che c'è stato tanti giorni e vediamo la differenza. Eppure ho fatto la stessa cosa, proprio garantisco. Sale e frigorifero, non ho messo altro. Questo è il risultato di dieci giorni. Scusate se è poco. Avete visto la trasparenza? Voi direte, hai messo il sapone Winnie se l'hai lasciato stare. Faccio la prova, eh. Qui, messo il sapone Winnie, se io faccio così, guardate. Ok, quindi è cascato. Allora, è diventato proprio gelatina. Posso toccare anch'io? Quindi, se mi riuscisse stapparlo. Come? Vabbè! Se io entro dentro, è gelatino osso. Metti la mano qui. Guarda com'è bello. Avete visto? Eppure, è questo, eh. È questo risultato però dopo dieci giorni. Trasparentissimo. Cioè, spettacolo. Quindi vi straconsiglio di usare il Winnie e lasciarlo in frigo, anche se la voglia di toccarlo è tanta. Per molti, molti giorni. In modo che lui torni completamente trasparente come l'Islam Clear. Sì. Ha bisogno di assestare. E ho notato che funziona anche con questi. Perciò, andremo a fare esperimenti un pochino più precisi. Quindi, se il video vi è piaciuto lasciate un like. Vi mandiamo un grande bacio. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ci vediamo domani. Un nuovo video. Mamma mia, mamma mia, che schifo. E ora chi ce l'apre la porta? Oh oh! Ciao! Ciao! Isabella? Ciao! Autore dei sorrisi